A dicembre comincerà la fase 3 della sperimentazione per il vaccino anti-covid-19 realizzato dall'azienda biofarmaceutica AstraZeneca e dall'Università di Oxford. Nei mesi di novembre invece saranno arruolati circa 300 volontari dai 18 anni in su che saranno sottoposti a sperimentazione a doppio cieco. A 200 di questi verrà inoculato il vaccino e agli altri 100 il placebo. Per candidarsi sarà disponibile un numero verde e la somministrazione del farmaco avverrà al poliambulatorio dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Per gli spostamenti gli italiani prediligono l'auto, diventata ancora più popolare con l'arrivo del covid. Il trasporto pubblico invece viene percepito come pericoloso. Sono i dati emersi dal diciassettesimo rapporto Audimob sulla mobilità degli italiani realizzato da Isford in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e con il contributo scientifico di Agens. Secondo il documento un italiano su due utilizzerebbe i monopattini per muoversi ma tutti vorrebbero regole più ferree. In generale nel 2020 la mobilità è stata profondamente segnata dalla pandemia. Il paese ha visto una flessione del 67% negli spostamenti giornalieri e una diminuzione dell'84% di passeggeri per chilometri percorsi. Il lockdown d'altra parte ha inciso positivamente sul numero degli incidenti stradali, meno 72% a marzo e meno 85% ad aprile. Il nuovo DPCM sancisce la chiusura dei musei ma una buona notizia c'è. I numeri che li riguardano sono in costante crescita da vent'anni a differenza di cinema, teatri, libri, musica o concerti. I musei sono gli unici poli culturali a continuare a crescere in Italia. A dirlo è il sedicesimo rapporto annuale Federculture, impresa cultura dal tempo della cura a quello del rilancio. Dal 2000 ad oggi musei e mostre hanno visto un copioso incremento di visitatori pari al 21,5%, ossia da 30 milioni all'anno del 2020 a 55 milioni nel 2019 nei musei statali. Anche monumenti e siti archeologici registrano un aumento del 36,8% tra il 2001 e il 2019. I visitatori più assidui sono al nord, con il 37% di fruizione dei musei. Al centro si registra il 33,9%, mentre la media nazionale è del 31,8%. Nei primi tre mesi del 2020 i ricavi complessivi di radio, televisione, internet, servizi postali ed editoria hanno subito una diminuzione del 7,1%, flessione meno accentuata rispetto a quella del bil italiano, meno 10,6%. Sono i dati rilevati dalla G-Com che dalla primavera ha iniziato a monitorare le ripercussioni economiche della pandemia di coronavirus sui comparti regolati. Per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, la diminuzione dei ricavi è stata più marcata per la rete fissa, meno 6,5%, che per quella mobile, meno 4,7%. Nei primi nove mesi dell'anno, la fruizione di streaming, lo smartworking e la didattica a distanza hanno prodotto un aumento del traffico del 44,4% nella rete fissa, e del 56,5% in quella mobile. I mesi estivi hanno visto un rallentamento nei consumi.